in riserva don camillo tutte le mattine andava a misurare la famosa crepa della torre e ogni volta era la stessa storia la crepa non si allargava ma neppure si restringeva e allora perdette la calma e un giorno mandò il suo sagrestano in comune va a dire al sindaco che venga subito a vedere questo guaio spiegagli che è una cosa grave il sagrestano andò e ritornò ha detto il sindaco peppone che vi crede sulla parola che sia una cosa grave a ogni modo ha detto che se proprio ci tenete a fargli vedere la crepa gli portiate la torre in municipio lui riceve fino alle 5 don camillo non batteciglio si limitò a dire dopo la funzione serale se domattina peppone o qualcuno della sua banda hanno il coraggio di farsi vedere a messa assisteremo a cose da cinematografo ma lo sanno hanno paura e non si faranno vedere la mattina dopo non c'era l'ombra di un rosso in chiesa ma cinque minuti prima che cominciasse la messa si sentì sul sagrato risuonare il passo cadenzato di una formazione in marcia inquadrati perfettamente tutti i rossi non solo del paese ma anche delle frazioni vicine tutti persino billò il calzolaio che aveva una gamba di legno e roldo dei prati che aveva una febbre da cavallo marciavano fieramente verso la chiesa con peppone in testa che dava l'un due un due compostamente presero posto in chiesa tutti in blocco granitico e tutti con una faccia feroce da corazzata potionkin don camillo arrivato al discorsetto illustrò con bel garbo la parabola del buon samaritano e terminò rivolgendo un breve fervorino ai fedeli come sanno tutti meno coloro che dovrebbero saperlo una incrinatura pericolosa sta minacciando la saldezza della torre mi rivolgo quindi a voi miei cari fedeli perché veniate in aiuto alla casa di dio dicendo fedeli io intendo rivolgermi agli onesti i quali vengono qui per appressarsi a dio e non certo ai faziosi che vengono qui per fare sfoggio della loro preparazione militare a costoro ben poco può importare se la torre crolla finita la messa don camillo si insediò a un tavolino presso la porta della canonica e la gente sfilò davanti a lui ma nessuno andò via e tutti fatta l'offerta ristettero sulla piazzetta per vedere come andava a finire e andò a finire che arrivò peppone seguito dal battaglione perfettamente inquadrato che fece un formidabile halt davanti al tavolino peppone si avanzò fiero da questa torre queste campane hanno salutato ieri l'alba della liberazione e da questa torre queste stesse campane dovranno salutare domani l'alba radiosa della rivoluzione proletaria disse peppone a don camillo e li mise davanti tre grandi fazzoletti rossi pieni di soldi e poi se ne andò a testa alta seguito dalla banda e roldo dei prati crepava per la febbre e faceva a fatica a rimanere in piedi ma anche lui aveva la testa alta e bilò lo zoppo quando passò davanti al tavolino di don camillo marcò fiero il passo con la zampa di legno quando don camillo portò a far vedere al cristo la cesta piena di soldi e disse che ce n'era d'avanzo per accomodare la torre il cristo sorrise sbalordito avevi ragione tu don camillo si capisce rispose don camillo perché voi conoscete l'umanità ma io conosco gli italiani e fin qui don camillo si comportò bene sbagliò invece quando mandò a dire a peppone di aver molto apprezzata la preparazione militare dei suoi ma che secondo lui doveva esercitarli di più nel dietro front e nel passo di corsa perché ne avrebbero avuto un gran bisogno il giorno della rivoluzione proletaria e questo non fu bene e così peppone aspettò don camillo al varco don camillo era un perfetto galantuomo ma possedeva oltre a una formidabile passione per la caccia una splendida doppietta e delle mirabili cartucce waltz road oltre a questo la riselva del barone stocco era a soli 5 chilometri dal paese e costituiva una vera provocazione perché non soltanto la selvaggina ma persino le galline dei paraggi avevano imparato che bastava andarsi a rifugiare dietro quella siepe di rete metallica per poi poter sghignazzare in faccia a chi voleva tirar loro il collo quindi niente di strano se una sera don camillo con la sottana in un enorme paio di braghe di fustagno e con un cappellaccio di feltro sulla zucca si trovò dentro la riserva del barone la carne è debole e più debole ancora la carne dei cacciatori e niente di strano se a don camillo scappò un doppietto che fulminò una lepre lunga un metro vista la lì per terra la mise nel carniere e già si accingeva a battere in ritirata quando si trovò davanti improvvisamente qualcuno e allora calcatosi il cappello fin sugli occhi gli sparò una zuccata sullo stomaco per mandarlo gambe all'aria perché non era bello che in paese si sapesse che il parroco era stato sorpreso da un guardia caccia a cacciare di frodo in riserva il guaio è che anche l'altro ebbe la stessa idea della zuccata e così le due zucche si incontrarono a mezza strada e fu una botta così potente che li mandò a sedere di rimbalzo per terra con un terremoto in testa una zucca dura come quella non può appartenere che al nostro bene amato signor sindaco brontolò don camillo quando gli si fu snebbiata la vista una zucca come quella non può appartenere che al nostro bene amato arciprete rispose peppone grattandosi in testa anche peppone cacciava di frodo in quei paraggi e aveva anche lui un diavolaccio di lepre nel carniere e ora guardava beffardo don camillo non avrei mai creduto che proprio colui il quale ci predica il rispetto per la roba altrui disse peppone tagliasse le siepi delle riserve per fare il braconiere e io non avrei mai creduto che proprio il primo cittadino il compagno sindaco sindaco ma compagno lo interruppe peppone quindi rovinato dalle teorie infernali che vogliono l'equa distribuzione dei beni e perciò coerente alle sue idee molto di più del reverendo don camillo il quale invece qualcuno si avvicinava stava già a pochi passi ed era impossibile darsela gambe senza rischiare di prendersi una schioppettata perché questa volta si trattava proprio di un guardia caccia bisogna fare qualcosa sussurrò don camillo se ci trovano qui succede uno scandalo oh non mi interessa rispose tranquillo peppone io rispondo sempre delle mie azioni i passi si avvicinavano e don camillo si addossò un grosso tronco peppone non si mosse e anzi quando apparve il guardia caccia con lo schioppo imbracciato lo salutò buonasera e che fate qui chiese il guardia caccia raccolgo funghi con lo schioppo un sistema come un altro il sistema per rendere meno pericolosi guardia caccia non è molto complicato trovandosi alle spalle di un guardia caccia basta avvolgergli improvvisamente la testa in un tabarro e picchiargli un pugno in testa poi basta approfittare del momentaneo stordimento del personaggio per raggiungere la siepe e scavalcarla una volta fuori tutto è a posto don camillo e peppone si ritrovarono seduti dietro un cespuglio lontano un miglio dalla riserva don camillo sospirò peppone abbiamo fatto una gran brutta cosa abbiamo alzato le mani su un tutore dell'ordine è un delitto questo don camillo che era stato lui ad alzarle le mani sudava freddo la coscienza mi rimorde continuò l'infame io non avrò più pace pensando a questa orribile cosa come troverò il coraggio di presentarmi a un ministro di dio per chiedere perdono del mio misfatto sia maledetto il giorno in cui ho prestato orecchio alle infame lusinghe del verbo moscovita dimenticando i sacri precetti della carità cristiana don camillo era tanto umiliato che aveva voglia di piangere e d'altra parte aveva anche una voglia matta di dare un pugno sulla zucca di quel perverso e siccome peppone lo capì smise la lagna maledetta tentazione gridò peppone traendo dal carniere la lepre e scagliandola lontano maledetta sì gridò don camillo e tratta la sua lepre la buttò via in mezzo alla neve allontanandosi a testa bassa peppone lo seguì fino alle gaggie e poi voltò a destra scusate disse peppone fermandosi sapreste indicarmi un buon parroco delle vicinanze per andare a scaricarmi di questo peccato don camillo strinse i pugni e tirò dritto quando ebbe trovato il coraggio di ripresentarsi al cristo dell'altare don camillo allargò le braccia non l'ho fatto per me disse l'ho fatto semplicemente perché se si fosse saputo che io caccio di frodo più che me avrebbe avuto un danno la chiesa ma il cristo rimase muto e in questi casi a don camillo veniva la febbre quartana e si metteva a pane acqua per giorni e giorni fino a quando impietosito il cristo non gli diceva basta quella volta prima che il cristo gli dicesse basta don camillo stette a pane acqua per sette giorni e proprio la sera del settimo quando oramai per rimanere in piedi doveva appoggiarsi ai muri e la fame gli urlava nello stomaco peppone venne a confessarsi ho contravvenuto alla legge e alla carità cristiana disse peppone lo so rispose don camillo e per di più appena voi vi siete allontanato sono tornato indietro e mi sono preso tutte e due le lepri e me le sono cucinate una alla cacciatora e una in salmì me lo immaginavo rispose don camillo in un soffio e quando poi passò davanti all'altare il cristo gli sorrise non tanto in considerazione dei sette giorni di digiuno quanto in considerazione del fatto che don camillo rispondendo me lo immaginavo non sentì il desiderio di pestare la zucca di peppone anzi si vergognò profondamente ricordandosi che quella sera aveva avuto per un istante la tentazione di tornare indietro per fare la stessa cosa povero don camillo sussurò il cristo commosso e don camillo allargò le braccia come per dire che lui faceva tutto il possibile e che se qualche volta sbagliava non era per cattiveria lo so lo so don camillo rispose il cristo ora vatti pure a mangiare la tua lepre che peppone ti ha portata belle cucinata in canonica l'abbiamo 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 l'abbiamo